Il terzo anno è una manifestazione che è cresciuta e dovrà crescere ancora. Una cosa molto interessante, molto importante e credo di richiamo, seppur di una nicchia di specialisti e di amatori, ma di grande livello culturale e artistico. Diciamo che è una manifestazione che si distingue da tante altre, e potrebbe diventare una delle più importanti d'Europa, sullo specifico. C'è la possibilità di coinvolgere la città maggiormente, ma sviluppando il brand del festival stesso, non lo farei addombrare da qualche altra attività molto più importante, la ragione per cui deve crescere in modo autonomo. Noi a Sanremo riusciamo a fare tante belle cose, dovremo essere in grado di promozionarle, veicolarle all'estero, visto che poi sono internazionali. Questo si potrà fare quando poi inizieremo un'attività come assessorato di marketing e di promozione dell'attività delle nostre città. A Sanremo vengono fatte tante cose, e da tanto tempo, e anche molto bene. Dobbiamo avere la capacità, acquisire la capacità di promuovere all'estero e in Italia. Siamo contenti di poter ospitare per la terza volta, qui la terza edizione di questo festival chitarristico internazionale. È un evento importante, visto la qualità degli artisti che si presentano, questa è una caratteristica alla quale guardiamo molto da vicino negli eventi che si propongono all'interno del Casinò. E poi anche il fatto di avere questa valenza internazionale. ci sono artisti che vengono da tutto il mondo, dalla Cina, da Cuba, dagli Stati Uniti. C'è un vincitore del Grammy Award che si esibira qua, e ovviamente i nostri talenti italiani. E poi lo spazio che si dà ai giovani attraverso il concorso Città di Sanremo. e questi tre parametri sono importanti per la scelta anche dell'evento all'interno della nostra casa da gioco. Innanzitutto il livello, che è ancora più alto delle scorse edizioni. I semifinalisti selezionati sono 11 e sono tra i giovani studenti più importanti che studiano nelle più grandi università del mondo e con i più grandi maestri del mondo. Non sono ragazzini di 13 o 14 anni, ma sono alcuni, quasi tutti, già dei veri e propri concertisti che hanno una carriera artistica alle spalle importante. Arrivano da Messico, Cile, Polonia, Thailandia, Italia. E come dire, la qualità della giuria del concorso che è fatta da vere e proprie leggende, tra le quali Oscar Ghiglia, Andrew York, Marco Tamayo, ha fatto sì che il livello dei partecipanti fosse ancora più alto. Quindi, insomma, di questa cosa siamo molto orgogliosi. Il festival è stato creato anche per loro, anche per dare una possibilità a dei grandi talenti di esibirsi in un teatro importante come quello del Casino, in una città conosciuta in tutto il mondo come quella di Sanremo, ma soprattutto, come dire, di poter vincere e di potersi affermare e far conoscere ancora di più attraverso uno dei più importanti concorsi e festival del mondo, perché oggi questo festival si può annoverare tra i più grandi ed importanti del mondo.